Il cuore dell'Italia con Mattia Proietti-Gaiardoni, l'Umbra oggi è tutta in festa per il tricolore di San Fior. Beh, questa stagione è stata incredibile, sicuramente indimenticabile. Ho vinto 13 gare prima di oggi, oggi dovevo mettere la ciliegina sulla torta e ci sono riuscito, non ho parole. A questo punto dobbiamo chiederlo, strada o ciclocross? È sicuramente la strada da più futuro rispetto al ciclocross, però il ciclocross è il ciclocross, è la mia disciplina preferita e spero di continuarla all'infinito. Sulle rampe in salita oggi sono saltate fuori le tue toti da scalatore? Sì, sicuramente ho un corpo esile, quindi dove c'è la salita mi difendo abbastanza bene. E adesso inizia la stagione su strada e probabilmente si punterà alle gare dove c'è più salita, quindi perché no a vincere le corse più importanti anche lì e anche il campionato italiano magari. La dedica intanto a questo tricolore? Beh, la dedica va a tutta la squadra, a mia mamma, mio papà, mia sorella, al presidente Moreno Petrini che ci presta il furgone per andare a tutte le gare e alla mia ragazza. Grazie a tutti.